salve a tutti amici oggi preparerò delle sovraccosce di pollo fatte in padella aromatizzato con un po di limone, salvia, rosmarino, aglio e sale aromatizzato all'errore fare i taglietti in vari comunti delle sovraccosce almeno sarà più saporito mettendo sempre degli aghetti pezzettini di salvia anche se non è proprio diciamo che le spezie entrano per bene dentro i buchetti non importa per dargli il sapore ecco ho preparato adesso tutte le sovraccosce di pollo mettendo sale rosmarino e aglio a pezzettini dentro nelle fessorine ho fatto dei foredini dei buchetti così con il coltello e rimettiamo un po di sale aromatico alle erbe che dà sapore del buono massaggiamo un pochino il nostro pollo ah ecco una cosa chiaramente è stato lavato precedentemente all'inizio in acqua e limone il pollo poi mettiamo tutto un limone sto usando per cinque sovraccosce di pollo ecco qua ecco qua via via alterno con l'aglio continuiamo con la marinatura e ci mettiamo un bel succo di limone ecco qua qui ecco qua ecco qua quindi ecco qua benissimo où il dal profumo ed hanno i cinque cosce in думate Tellin ho usato un limone intero click è un altro mezzo nellaрокol militare legitim esterstà quello per l'alba 2 e l'ho messo in questo piatto poi potete metterlo anche dentro una zuppiera, quello che avete più a portata di mano, un pochino di sabbia spezzettata sopra e un filo d'olio. Adesso lo facciamo stare un pochino a marinare, mezz'ora circa. Ecco, passato il tempo di riposo, lo mettiamo in padella dalla parte della pelle, così viene una della prosticina, ho preso una padella grande, ecco qua. Lo metto anche sotto il zucco. Ho fatto cuocere per circa cinque minuti dall'inizio. E adesso le giro, è un buon profumo, il limone è buonissimo. Ecco qua, lo facciamo fuorceli da questo lato, adesso. passate altri cinque minuti a fiamma arrivate, guardate dove sono venuti sotto. e adesso le copro con un superchio e le faccio cucinare così per una ventina di minuti girandole ogni tanto. Ecco qua, giriamo le sovraccozze, che stanno venendo benissimo e rosolate, come piatti a noi. Vanno coste a fiamma moderata, insomma, non alta, ecco. Ho preparato dei ceci per accompagnare il nostro pollo di oggi, invece che sempre le patate, per fare un'altra variante. e li ho cotti stamani mattina in circa un'ora. Però li ho messi a bagno ieri sera, tutta la notte, in acqua. E poi gli ho aggiunto delle foglioline di salvia e basta. Un po' di sale a fine cottura. Ecco il nostro pollo ben cotto, che mi piace a noi. In totale l'ho scotto 40 minuti, girandolo spesso. Eccolo qua, con la nostra crostitina, ma morbido dentro. Eccolo qua, con la nostra crostitina. E andiamo a vedere se questa è una coscia buona. Vediamo un po' di salvietto buono. Adesso siamo pronti per mangiare un bel contorno di ceci cotti. e poi in un po' di salvietto buono. Eccolo qua. Un po' di salvietto buono. Un po' di salvietto buono. Eccolo qua. Eccolo qua. Buono dito dentro. Guardate che bellezza. Buonissimo passaggio. Facciamo un po' di salvietto buono. Molto buono. Un po' di salvietto buono. Un po' di salvietto buono. Un po' di salvietto buono. lasciam salvietto buono. Terno Kennydiale. I'm ifeline lupo di salvietto buono al rabbi. Costzie in alto barbi.